Alla seconda edizione del Naples Salsa Meeting abbiamo ancora una volta l'onore e il piacere di ospitare il maestro Massimo Fazio. Sono specializzato alle danze folcloriche cubane, balladino professionista, coreografo teatrale, diplomato nelle danze caraibiche e nella rumba, direttore dell'Accademia Cubana di Portici. E mi occupo di tutto il settore per quanto riguarda sia la parte commerciale come la salsa che la parte un po' più folclorica e quindi meno conosciuta come la rumba, il son e l'afa. Massimo Fazio, veterano della manifestazione, alla prima edizione ci presento una rumba continua. Massimo che cosa ci presenterai quest'anno? Quest'anno avremo una coreografia di Columbia che è uno stile di rumba molto difficile che balla solo l'ombre e la balla per conquistare la mujer, quindi sarà una sfida tra due ballerini a ritmo e a colpi di passi. E dopo diventerà Avaqua che è un ciclo religioso proveniente dall'Africa e poi tutte le danze cubane provengono da lì e sarà una coreografia fra Columbia e Avaqua molto molto folclorica che andrà nelle radici della danza cubana. L'appuntamento è alla seconda edizione del Naples Salsa Meeting martedì 24 aprile dalle ore 21.30 a Conga.